Con l'entrata in vigore dell'orario estivo è partito il nuovo piano di riorganizzazione del trasporto urbano a Pordenone. Un piano complesso che intende implementare l'utilizzo dell'autobus da parte dei cittadini attraverso percorsi più intelligenti che mettono in comunicazione il centro città con la periferia in un sistema a reggera. Le linee feriali passeranno da 10 a 13. Una BEX map sarà esposta in tutte le fermate con pensilina e mostrerà chiaramente la mappa cittadina del servizio feriale, con i nomi delle fermate, sullo stile di quelle in uso nelle metropolitane delle grandi città. Storicamente il trasporto urbano cittadino soffre di una scarso utilizzo quindi pochi utenti. È un servizio che impone tanti minuti per raggiungere un punto o l'altro della città ed è poco remunerativo. Da questo punto di vista abbiamo già iniziato da un paio d'anni a ragionare ad un cambiamento ad una riorganizzazione che consente di aumentare il numero di utenti, di renderlo quindi anche più remunerativo aumentando il tasso di occupazione degli autobus rendendo molto più agevole, molto più comodo, più rapido il raggiungimento dei punti strategici della città, penso i poliscolastici piuttosto che quelli sanitari, i punti di interesse principalmente battuti dai cittadini. Però è evidente che di fronte ad un servizio che viene coperto attraverso l'abilitazione solo per il 25%, il 75% è tutto a carico della collettività e quindi della regione, del pubblico, ecco una riorganizzazione si rende indispensabile. L'obiettivo ripeto è quello di essere più rapidi e più efficienti. Il servizio viene riorganizzato facendo come polo attrattivo, quindi come trade union di tutte le nuove linee del trasporto pubblico urbano, la stazione ferroviaria di Pordenone. Tendenzialmente tutte le linee ogni 30 minuti passeranno al minuto 27 e 57 nella stazione ferroviaria o nelle fermate che si trovano in prossimità della stessa. Rispetto a quello che è il servizio attuale abbiamo tentato di velocizzare i tempi di percorrenza dalla periferia al centro. Si potrà partire da tutte le località periferiche del servizio urbano di Pordenone, velocizzando il collegamento dalla periferia al centro, tendenzialmente si arriverà in 15 minuti ogni 30 minuti proprio per riuscire a fare l'intermodalità gomma ferro, quindi con la stazione ferroviaria, piuttosto che servirsi anche di quello che è il servizio extraurbano che ATAP con TPL-FWG fa per quanto riguarda anche tutto il territorio regionale e parte un innovativo servizio di trasporto biciclette dalla fermata di Aviano Stadio a Piancavallo fermata Tremol, quindi in corrispondenza del Palazzo del Ghiaccio. Si può caricare la bicicletta in un rimorchio ad hoc e raggiungere Piancavallo con 3,05 euro trasporto bicicletta gratuito. Una rivoluzione che mira a rendere l'autobus una reale e concreta alternativa alla macchina perché siano sempre di più le persone che possano scegliere di lasciare l'auto in garage e muoversi a piedi in bicicletta con l'autobus per rendere la città più accogliente, più vivibile. Ovviamente c'è necessità di un periodo di tempo per abituarsi ai nuovi percorsi, alle nuove fermate, ai nuovi orari. Abbiamo quindi un anno di sperimentazione in cui il servizio sarà perfettibile, per questo il Comune ha istituito un indirizzo mail apposito dove potete far arrivare le richieste, le informazioni e suggerimenti help-urbanochiocciolacomune.pordenone.it